Sara Gallo Golko Jansa Luca Spatola Matteo Bertolotto Denise Rattal Giulia Lorenzetto Mehdi Younes Barbara Guaracino Incuriosire e sensibilizzare i ragazzi su cosa vorranno fare i ragazzi Abbiamo utilizzato una didattica nuova I ragazzi presentano le professioni loro Loro hanno fatto le interviste E si sono attivati direttamente Direi con molto entusiasmo a questa attività Job Show è una presentazione che abbiamo fatto con i miei compagni Presenta delle professioni Bilancio sociale e cooperazione internazionale E li abbiamo presentati ai ragazzi di Quanta e Quinta Per aiutarli a scegliere che cosa fare dopo finita la scuola Mi interessa di più bilancio sociale Visto che io faccio un indirizzo estrettamente economico E la economia mi piace Sicuramente mi sono interessate di più le cooperazioni internazionali Perché trattano e si occupano di dare un sostegno Sia sotto l'aspetto economico che sociale Ai paesi più poveri Io ero il capo squadra Ho io stato a fare powerpoint E poi mi sono occupato della presentazione del nostro gruppo Ho fatto i video, ho pensato alle interviste E poi alla fine all'organizzazione multimediale di un'altra esposizione Montaggio e regista Ho avuto il ruolo di consegnare gli inviti Oppure di inventare lo slogan per gli inviti E anche quello di un'organizzazione generale Ho presentato il progetto ai miei compagni di quarta e quinta Ho fatto il powerpoint Mi sono occupata dell'organizzazione protocollare Dove facevo assistenza a hostess Sono stato il tutor dei ragazzi Ho coordinato un po' il lavoro Ho aiutato quando c'era bisogno di aiutare Ma penso che siano stati molto bravi a svolgere il loro compito Continuerò gli studi E mi piacerebbe fare medicina infermieristica Sinceramente adesso non ho ancora le idee chiare Quindi non saprei rispondere Farò le scienze politiche Non credo che continuo gli studi Finora non ho ancora deciso Vedrò poi in seguito Continuerò gli studi ma sono indeciso ancora Tra economia aziendale e ingegneria Non so ancora Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti